Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quello di oggi sarà un video un po' diverso dal solito perché non parlerò di un film nello specifico, un film, una serie, comunque non parlerò di un prodotto, ma parlerò di Letterboxd. Ditemi per favore che lo conoscete già, ma in caso contrario vi introdurrò in questo mondo che adoro. Però oggi parleremo di un certo elemento di questo social, gli easter eggs. Intanto vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link dei miei social, partendo da Instagram, TikTok, X, Lex Twitter, ma naturalmente anche Letterboxd. Anticipo che quello di oggi non è un video sponsorizzato, anzi è nato dalla mia ossessione verso questa piattaforma, però per chi ancora non la conoscesse Letterboxd è un social creato per i cinefili da dei cinefili. In realtà esiste già dal 2011, diventato poi pubblico nel 2013 e è diventato famoso qui in Italia solo qualche anno fa. A cosa serve Letterboxd? Ha diverse funzionalità, partendo dal diario Visioni. Si può quindi tener conto delle visioni giornaliere a cui si può aggiungere anche un voto in 5 stelle con eventuale cuoricino, ma anche una mini recensione. Si possono creare delle liste, delle classifiche top e c'è anche la sezione watchlist. Essendo un social ci sono naturalmente i followers e i seguiti, e in questo modo quindi si può facilmente stalkerare le visioni di un determinato amico o follower. Chiusa parentesi alla scoperta di Letterboxd, spero vivamente di avervi invogliato a iscrivervi alla piattaforma, ma in caso contrario passiamo al punto cardine di questo video e credo che dopo Letterboxd farà parte delle vostre applicazioni sul telefono. Iniziamo da quelli più semplici ma che comunque apprezzo tantissimo. Nella pagina di Everything Everywhere Oletowns, aprendo la finestra del log del film, possiamo cliccare sul visto che solitamente è un occhio verde stilizzato, qui invece è un occhio ballerino, elemento importantissimo per il film e chi l'ha visto lo sa già. Stessa cosa accade per Dune e Dune parte 2 che arriverà nelle sale il 28 febbraio, infatti qui l'occhio si colora di blu, questo perché ovviamente nel film la spezia fa diventare gli occhi di questo colore. Passando avanti con Barbie, il cuore che solitamente è arancione, qui si colora di rosa, come se nel film non ci fosse già abbastanza rosa. Nella pagina del film ritratto della giovane in fiamme, le stelline di apprezzamento qui diventano delle piccole fiamme blu. Passando a Fight Club, dopo aver scritto una recensione al film, apparirà un messaggio che avverte che stai per rompere la prima è la seconda regola del Fight Club, e chiederà se vuoi comunque pubblicare la recensione. Ma con la pubblicazione di recensioni non abbiamo finito perché infatti per Mission Impossible Dead Reckoning, dopo aver scritto qualcosa nella sezione review, comparirà un altro messaggio, un po' più elaborato visivamente. Questo è veramente bellissimo. Andando avanti, quando una recensione contiene spoiler, in basso a destra compare un'icona raffigurante Darth Vader, che è già un easter egg in sé, ma se ci troviamo nella pagina review di un qualsiasi capitolo di Scream, quel Darth Vader diventa Ghostface. Per chiudere qualche altro easter egg casuale molto divertente. Nella scheda di Ricomincio da Capo con Bill Murray, dopo aver fatto una qualsiasi azione alla pagina che sia anche semplicemente aprirla e aver provato a tornare indietro, verremo ricondotti alla stessa pagina, per giocare sul paradosso del loop presente nel film. Ovviamente accade una sola volta, non è che rimarrete intrappolati all'infinito in quel loop, ma se vi è già successo, beh, non è un bug. Era previsto. Nell'applicazione per telefono, se sarete attivi tra la mezzanotte e luna in un qualsiasi giorno e scuoterete il telefono, succederà qualcosa. Se volete scoprire cosa senza che ve la riveli con questo video, andate a questo minuto. Per voi che siete rimasti invece, beh, mi sono preso più volte uno spavento prima di scoprire questa cosa. Infatti, se si scuote il telefono tra la mezzanotte e luna, apparirà a tradimento Stripe da Gremlins. Andando avanti con gli ultimi due easter egg che funzionano solo nella versione web di Letterboxd, visitando la scheda di Parasite, in alto a sinistra il logo del social apparirà strano. Il cerchio verde centrale ad intermittenza diventerà bianco. Non a caso, quello è codice Morse, elemento molto importante nel film di Bon Joonot. Qual è il messaggio? Beh, vincitore del miglior film. Ultimo easter egg per ora scovato nella pagina di Tenet. Scorrendo verso il basso possiamo vedere la stessa pagina del film, Palindroma, interamente specchiata. Anche questo un easter egg molto divertente, soprattutto per chi se lo trova davanti per la primissima volta. Ma ragazzi, questi sono gli easter egg che sono attualmente presenti su Letterboxd, sia versione web che versione mobile. Probabilmente in futuro ne verranno aggiunti di altri, sicuramente con l'aggiunta delle serie tv che dovrebbe arrivare verso fine anno, arriveranno altri easter egg. Spero vivamente di avervi invogliato a scaricare Letterboxd se già non eravate iscritti al social. Vi ricordo che il mio profilo è sempre presente, lo trovate nella descrizione assieme a tutti gli altri miei social e il link di Pampling, codice ILPENSIERO4 per avere un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!